Ciao sono la dottoressa Katia Lalli, oggi ti voglio dare 5 cibi, 5 food, super food che servono per rendere la tua chioma bella e brillante. Il primo alimento che non dovrebbe mancare nella tua alimentazione sono i frutti rossi quindi more, mirtilli, contengono tantissimi antiossidanti che vanno a eliminare tutti i danni provocati dal sole, dal vento, quindi che renderebbero poi il tuo capello più fragile e più tendente alla caduta invece con questi fortissimi antiossidanti contenuti nella frutta rossa eviteresti questo problema. Il secondo alimento che non deve mancare è il pesce, il pesce soprattutto il pesce azzurro e il salmone perché contengono numerose proteine, vitamina D3, omega 3, omega 6 che hanno un'azione per rendere più brillante e più bella la tua capigliatura. Il terzo alimento che non dovrebbe mancare nella tua alimentazione è la verdura a foglia verde perché contengono un alto contenuto di ferro, il ferro sappiamo che è responsabile del trasporto di ossigeno a livello del bulbo e quindi proprio per la crescita e il nutrimento del capello quindi se aggiungi nella tua alimentazione questo tipo di alimento vedrai che il tuo capello crescerà più bello, più sano e più forte. Il quarto alimento che non deve mancare è il legume i legumi contengono tantissimo ferro, biotina, zinco, tutti oligo elementi che servono proprio per la ricrescita e la bellezza del capello e in ultimo la patata e la zucca perché contengono beta carotene, precursore si dice della vitamina A nel senso che nel nostro organismo viene trasformato in vitamina A e la vitamina A serve proprio per la crescita del capello se hai qualsiasi curiosità comunque scrivimi e se ti è piaciuto il video condividilo ciao!